Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono 3 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna in direzione Firenze. Per questi lavori è chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Per altri lavori invece è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale Toscana. In A1 stanotte in orario 22.6 è chiuso lo svincolo di Calenzano in entrata verso Bologna e in uscita provenendo da Roma. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione per Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!